Buonasera a tutti, questa è la libertà, non solo di stampa ma di parola per tutti assolutamente, non ti girate all'altra parte, dovete venire assolutamente al primo maggio di Taranto perché dovete portare i vostri cani per pigna, liberi e pensanti come le baspeziane a Taranto Altro pensato, ciao, saluto, ciao rica, continuiamo a tornare Grazie